Musica Ok ragazzi, eccoci nel secondo settore Allora, qui, qui era rimasto, non mi ricordo Ok, ho i droni, bla bla, tutto questo affare Gli scudi da potenziare, jumpo nel primo settore Dove vado? Potrei andare per di qua a fare tutto questo giro lungo Andiamo per di qua Go, jump Ok, vediamo qui cosa c'è Risorse abbandonate nello spazio Vabbè, io passo ragazzi, frullo tutto Un frullatore ormai Mi sembra uno sbaglio lo scorso Questo mi sembra cattivo E quelli mi sembrano lanciamissili Ok, fuoco sul sistema d'armi Mi stanno attaccando Un invasore nella nave Tutti gli uomini al combattimento Aia, aia, missile in arrivo Adesso te lo faccio sentire io il missile Ah, l'hai sentito, ti è piaciuto Bravo, bravo, adesso tu muori Ecco, adesso tu vatti a curare perché stai morendo E tu torna al sistema d'armi perché mi serve fuoco immediato Spacchiamoli Facciamo fuori questi bagarozzi alieni Sì Bacarozzi uccisi Che mi ha dato? Un fuolo, un missile di 26 scrap Un po' sprecato Però sono 156 scrap ragazzi Sono tipo troppo pieno di risorse Oh mia, io appena trovo un market Faccio altro che super shop Ancora più shop dello shop Altre risorse Distress, ok Vediamo che c'è questo distress Andiamo a notare se c'è qualcosa di molto utile Tra le soli ci sono stati piaciuti in the rocks Ok Praticamente mi ha detto C'è una nave che è in difficoltà In un'anomalia di asteroidi Che faccio? Gli aiuto a fuggire dagli asteroidi O gli attacco perché tanto sono pirati? Io certo gli attacco tanto sono pirati Crepate tutti A morte Oh mio dio Mi ha sfasciato quasi tutto Ma spiegate perché questa unità non si cura ragazzi Ma non c'è Questa sta in infermeria e non si cura È un fake Ma sto missile spara? Ok Sistemi di armi offline Si vogliono arrendere ragazzi Vabbè dai accetto l'offerta di resa Dai lo accetto perché mi fanno un po' pena Poveri pirati Mi hanno pagato bene Ne valsa la pena Adesso io mando il mio drone riparatore E il mio drone adesso mi ripara Vai riparami Grazie drone Intanto qui faccio le riparazioni all'interno della nave Questo non si cura perché è una cavalletta che non si cura Io non so come curare le cavallette ragazzi Come la cura una cavalletta? Cavalletta curati Qui No qui Questo che è il sistema comunicazione Sistema sorveglianza Sistema controllo porte Infiermeria Sistema di armamenti Sistema di armamenti Sistema di armamenti Sistema di armamenti Motori Scudi La cavalletta non si cura La cavalletta Incurabile Niente Sta cavalletta fissa 31 HP Non si cura Va bene Va bene Vaffanculo Pirati Ci vediamo alla prossima cosa Oh Distress Distress Sexy Ti vedo qui Certo Farebbe comodo un bel market A te sinceramente Però vabbè Mi accontenta Ancora questi pirati del cavolo Basta Tutte le armi online Ah perché Infiermeria era offline Ragazzi L'ho disabilitata io Ok Vai cavalletta Vatti a curare Tanti i motori Adesso non mi servono Adesso devo solo Spaccare Sto idiota Armi Fuoco Sistema di scudi Ragazzi Che cos'è questo Ha un HP Secondario Che blocca i colpi E para i missili Con lo scudo Che cos'è Questa tecnologia Aliena ignota Cosa cavolo è Mi sta sfasciando tutto Arrivare in questa infermeria In settimana Grazie Ti devi curare tu Capito Non è per gli altri Se sì Perché stai scappando Guarda Sei tipo troppo morto Non ti salverà nemmeno Gesù Guarda Guarda Per partire Una volle di laser Proprio sul tuo engine Guarda Bam 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 Dritta dritta Bam Ciao chicco Va a casa Va tutto mio Ok Tu ti stai curando Almeno qui Eh porcavolo Vai ripari i motori Cavalletta inutile Ah si è curata Si è curata Una cavalletta Ripari i motori Siamo pronti al salto Mercato ragazzi Mercatino 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 Che c'è dentro Vediamo se trovo qualcosa di figo Continua Vabbè Clocking Cretto della porta Oh Che figo Drone da abordaggio Questo drone da difesa No bellissimo Oppi ragazzi Troppo oppi Ok Allora Chiudi Andiamo su ship Ok potenziamo il sistema energetico Ok Più due barre Adesso posso accendere gli scudi Poi ship Upgrade gli scudi E posso mettere Bam Gli scudi livello 2 ragazzi Guardate Doppio scudo addirittura Doppio strato di scudi Un video fantastico E ora Con 146 che mi rimangono Compro il drone Antipersonale Questo Poi Ah Creo equip Ah ok 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 Vendo Guardate Due Un repair Porca Vendi questo No aspetta no Come si fa Store Ok Vendi Ok Vendo Defense Come si vende Ok E un repair Ok E questi li equippo Perfetto Ora un repair E antipersonale E poi mi servirebbe Tipo un armamento Che tipo qua non li vendono Però posso comprare Energia Energia non mi guasta Ok Ho comprata tutta Allora ho finito l'energia Compro altri droni Che servono E in più potenzia ancora di più La mia nave ragazzi Ho tutti i potenziamenti che voglio Potenziamo il sistema energetico principale E in più potenziamo il sistema armi Così posso usare più droni Ok ragazzi E' tipo fighissimo Questo che fa Allora Sui utili del FTL Jump Non mi frega niente Aspetta Questo che cos'è Ah ok Ossigeno Aumenta la velocità Di rifornimento di ossigeno Nella nave Aumenta la velocità Di ricarica Dell'engine Bello ragazzi Posso potenziare tutto Aumenta la velocità Di cura Della nave Della cosa medica Ragazzo 60 costa La fa Economico Mi dicono Molto economico Propulsione Scudi Vabbè Mi serve armamenti Io sono nave da combattimento Armamenti Go Ok ragazzi Posso jumpare Andarmene via da qui Andiamo avanti Posso andare direttamente All'uscita Però andiamo a vedere Qui cosa c'è Facciamoci un bel giretto Esplorativo Su questo pianeta Desertico Rosso Io arrivo in just time Oh c'è una fermata Certo Certo che vi aiuto Vi aiuto subito Vi aiuto Fuoco sul sistema d'armi Facciamo le pezzi Facciamo le pezzi Facciamo le pezzi Fuoco Fuoco Tutti i settori Fuoco su questo bersaglio Guardate ragazzi Mi hanno rotto uno scudo Si sta ricaricando Il primo strato di scudi Guardate che figo Oh mio dio ragazzi Fumento Roba da fap Fap proprio Sei tipo troppo morto Calcolo Ah non devo sparare Due missili Perché c'è il drone difensivo Mi sta sbragando tutti i missili Che idiota Ho sprecato dei missili a vuoto Oh hanno riparato il sistema armi Fuoco sul sistema armi Fuoco fuoco Sistema armi Primary target Ok eliminato E ora dovrei sparare sugli scudi Se vanno a segno Ah riattivato il sistema armi Oh che cavolo Che c'ha i super riparatori Hanno riparato al massimo A che velocità ripara questo tizio C'era super oppogradati Ah no aspetta Questa me lo devi spiegare Il drone ha parato i proiettili del laser Oh questo è da vedere Replay Il drone che pare i proiettili del laser GG Complimenti al drone Tanto hai perso droni Tu vorrei di niente Grazie per tutti i materiali Io vado avanti Potrei andare per di qua Ancora esplorare Ma si esploriamo un altro pezzetto Di sistema Perché no Vediamo Un pianeta blu Ho trovato un cavolo Bene Ho detto Che se è venuto a fa Non c'è niente Non posso Come al solito Io vengo Mi faccio un giretto Al prossimo store Con 27 soldi che ho fatto Magari c'è qualcosa No c'è un cavolo Andiamo in uscita ragazzi Andiamo in uscita Perché tanto le armi Costano tanto Già non ho tocchiate un paio Ma costano sui 100 soldi Quindi Mi rapito un po' In quel posto Esplorare adesso del field Ok vai 5 fuel A free Perfetto ragazzi GG Ok va bene Per questo episodio è tutto ragazzi Vado nel prossimo settore Che sarà un settore Oddio Un chart in nebula O rebel controlla il settore Certo un chart in nebula È rischioso E rebel anche Non scherzo eh Vabbè vado su un chart ragazzi La prossima puntata Sarà in una Nebulosa Senza cartina Sconosciuta Che non si sa dove porta ragazzi Ciao a tutti ragazzi E al prossimo episodio FTL online